La fama Esiodo, metà ottavo secolo, settimo secolo avanti Cristo, in le opere e i giorni, dice La fama è pericolosa. Il suo peso è leggero al principio, ma si rende sempre più pesante a sopportarlo e difficile a deporlo. Commento La fama è una forma pensiero che deve essere continuamente energizzata, specie nel mondo dello spettacolo. Dalla fama dipendono molte persone che fanno di tutto per rimanere a galla nell'attenzione della gente. Grazie 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 Grazie